Gela prende le distanze dal libero consorzio di Caltanissetta. Consiglio comunale straordinario ieri per discutere di liberi consorzi e valutare l'opportunità di aderire al libero consorzio di Catania. Anni di lavoro del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese potrebbero avere a breve un felice epilogo finalizzato ad un decisivo rilancio del territorio gelese. La svolta tanta attesa potrebbe dunque essere ad un passo dalla sua concretizzazione. Il portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese, Filippo Franzone. Bisognava parlarne ovviamente con i consiglieri e capire quale indicazione dava questo consiglio su una possibile adesione ad altro libero consorzio. Ieri si è deciso, andando l'uscita dal consorzio di Caltanissetta, questo è già un primo passo molto importante. I numeri sono anche importanti, Franzone? Erano presenti, fino a 23 consiglieri sono stati presenti, quindi parliamo di un consiglio massiccio e ben frequentato. Alla fine hanno votato 18 su 18 dei presenti che sono rimasti perché abbiamo finito molto tardi. Abbiamo iniziato alle 11, abbiamo finito alle 3 di pomeriggio, quindi è durato parecchio. C'è da dire infatti che il consiglio comunale ha avuto come esordio un suo intervento, ma poi fino alle 15 c'è stato un dibattito molto acceso. Quali sono stati gli argomenti più importanti che sono stati trattati? Diciamo che il dibattito è stato molto acceso perché stiamo parlando del futuro della città e del comprensorio che riguarderà almeno i prossimi 30 anni o 20 anni o quello che durerà. Quindi parliamo di una riforma importante e quindi parliamo di un processo molto importante. È ovvio che questo vada discusso e vada ragionato, però alla fine contano i numeri come si suol dire e la votazione è stata all'unanimità e quindi andiamo avanti per questa strada. Il consiglio ha dato mandato al sindaco, ai capigruppo e al comitato di verificare se altri comuni vogliono seguire la nostra iniziativa, ovvero il passaggio ad altro libero consorzio. Questo lo faremo in 10 giorni e al più presto speriamo, entro fine mese, di poter riprodurre la delibera di adesione ad altro libero consorzio. L'assise civica è l'espressione democratica di un'intera cittadinanza. Ritiene che tutti i cittadini gelesi vogliano partecipare e quindi accodarsi al libero consorzio di Catania e diventarne quindi la città più importante dopo naturalmente il capoluogo. Il passaggio in consiglio comunale è importante, ma c'è anche il passaggio per la popolazione. Ricordiamoci che dopo la delibera del consiglio comunale c'è un referendum da fare e lì i cittadini gelesi tutti dobbiamo veramente valutare cosa vogliamo fare della nostra città e del nostro futuro.